buongiorno bentornati a coffee break e buon sabato allora voglio cominciare da qui con riccato cotarella intanto i numeri del vino italiano sono numeri formidabili anche o no innanzitutto buongiorno a tutti discussione veramente utile da approfondire visto l'interesse che avrà nel futuro della nostra commercializzazione per quanto riguarda il vino sì diciamo che non ci possiamo lamentare specialmente riferendici ad altri prodotti dell'agroalimentare diciamo che i nostri numeri sono confortanti bisogna essere attenti però non illudersi che questa questo momento diciamo di positività possa essere garantito nel futuro perché ormai si produce del vino buono dell'ottimo vino in tutto il mondo il cambiamento climatico ha portato alla luce territori che erano assolutamente ritenuti non vocati alla produzione del lume del vino quindi attenzione a monte di tutti i vantaggi i benefici che abbiamo che la natura ci ha dato di biodiversità di trasversalità territoriale di diversità culturale tra diverse regioni italiane noi dobbiamo stare attenti e qui le non ci stanno giocando un ruolo importante che diversamente potremmo essere graffiati se non accreditati da altri paesi logicamente riferendomi un po il discorso del dei dazzi beh io credo che la più semplice ma anche la più significativa espressione e parere la piatta del mio amico roberto arditti non ci possiamo preoccupare del giappone che la densità di popolazione è tale che non c'hanno neanche terra per coltivare l'insalata nell'orto no si stanno coltivando della vite ma dove io sto collaborando con molto interessante molto interessante questa esperienza giapponese ma tenete presente che una grande azienda giapponese è ritenuta grande quando hanno superficie di 15 20 ettari da noi una piccola azienda certo quindi diciamo non non mi preoccuperei sottolineerei però che noi del vino egoisticamente sottolino egoisticamente in questi due accordi c'è la yafta per quanto riguarda il canada non ci preoccupiamo anzi noi auguriamo che vengono ratificati in quanto che i due paesi il giappone pochissimo il canada assolutamente salvo una piccola parte della sud occidentale non producono vini sono due paesi dove noi esportiamo molto dove il vino italiano la fa quasi da padrone quindi mi auguro che questo accordo venga ratificato sarebbe veramente penalizzante per il nostro settore se per motivi capisco il grano capisco i cereali ma come diceva roberto additi non possiamo competere con le estensioni canadesi nella produzione del grano io credo che sia utile per importante per il vino ma importante per tutta la produzione italiana che questi due accordi vengono ratificati su quanto riguarda ritornando un po sul discorso di prego prego no prego per quanto riguarda diciamo lo stato di salute del vino italiano noi in questo momento siamo euforici no perché ci sono alcuni vini alcuni vini del nord est alcuni vini del sud alcuni territori del nostro paese che stanno avendo una grande attenzione in certe determinati aree di consumo tengo sottolinea profitto proprio di questa trasmissione mi rivolgo ai miei colleghi mi rivolgo ai produttori di vino in questo momento dobbiamo dare un colpo di coda un colpo di orgoglio per mettere risalto che ciò che ha l'italia non ha nessun altro paese al nostro confronto la francia il cui gap sui prezzi è ormai inestimabile tanto il barrio la francia non può vantare minimamente la nostra storia la nostra cultura la nostra biodiversità e quindi dobbiamo giocare su questo fattore qui stanno provando a copiare il sangiovese in australia ma è veramente patetico questo tentativo o il nebbiolo in california no che possono rubare l'uva per carità nessuno glielo impedisce ci rubano il nome grazie a questo permettere da parte della comunità europea modificando parmigiano in parmisan o barolo in barillo no ma non ci possono rubare i nostri territori non ci possono rubare le nostre terre su quelle che contano e permettermi anche la nostra tecnologia il mondo è pieno di cantine è pieno di vini ma in quasi tutte le cantine la maggior parte c'è sempre un inologo italiano quindi diciamo che possiamo stare tranquilli nel momento in cui noi sappiamo il nostro patrimonio e sappiamo valorizzarlo allora grazie a Dicato Cotarella anche per questa fiera rivendicazione orgogliosa no di cose che in Italia ci sono sono molto importanti e ci hanno fatto conoscere nel mondo però sono importanti anche le primavera diceva attenzione non possiamo vivere di rendita no è perché c'è una concorrenza spietata citava Cotarella alcuni paesi è vero che forse alcune cose non si possono delocalizzare ma se uno è un enologo bravo come Cotarella è una situazione come dire geografica no ambientale buona magari fa un buon vino anche fuori dai confini italiani già io approfitto di Cotarella per chiedere una cosa apparentemente banale d'estate che beviamo il rosato il rosè che dobbiamo bere d'estate beh non mi sembra tanto banale come domanda direi proprio invece appropriata al periodo ma guarda guardi io credo innanzitutto tassativamente italiano cioè bere italiano noi abbiamo una tale varietà di vitigni di territori di tipologie di vini da abbinare a pranzo a cena ai mille piatti della cucina italiana ai mille momenti dalla spiaggia alla montagna cioè c'è l'imbarazzo della scelta l'importante è conoscere le nostre ricchezze certo abbiamo vini anche da abbinare le diverse stagioni certo in questo momento non posso consigliare un barolo o un alienico salvo momenti speciali sono momenti dei bianchi dei rosati ma c'è un particolare che vorrei evidenziare stiamo diventando il paese delle bollicine biologicamente diverse cioè non è più francia corta soltanto buonissimi per fortuna è sempre meno champagne ma è bollicina da tutte le parti d'italia dal piemonte alla sicilia e questo non voglio fare pubblicità per gli enologi ma è la verità siamo riusciti a portare a scoprire queste grandi ricchezze in vitigni che fino a qualche anno fa era impensabile destinare la produzione di bollicine dal negramaro al trebbiano al grillo in sicilia al sangiovese unificato il rosato piuttosto che alla malvasia cioè abbiamo tante quelle bollicine da gustare non soltanto dal punto di vista organolettico ma anche culturalmente storico cioè tutto ciò che noi abbiamo in italia lo champagne chapeau in tutti i sensi perché hanno creato un prodotto fantastico però viene da due vitigni pino nero e chardonnay noi abbiamo una biodiversità di bollicine che non ha nessun paese al mondo e non sono soltanto diversi ma sono anche eccezionali quindi veri tassi di mento italiano se me lo permette vorrei fare un piccolo riferimento all'aspetto salutistico nonché sanitario del vino italiano noi abbiamo pagato tassa e che tassa con lo scandalo del metanolo come no dio ce ne liberi da da immaginare il ripetersi anche al millesimo di quell'effetto però abbiamo capito che noi dobbiamo cambiare strada e l'abbiamo cambiata quindi io sentire parlare di veleni di malattie io almeno penso al vino prego tutti quelli che si esprimono in questa maniera di essere rispettosi rispettosi delle nostre dei nostri patrimoni così attentamente curati e protetti la francia ha avuto più episodi negativi di noi nessun giornalista mai ne parla non so perché noi siamo portati a fare sanno di un episodio di lavare i panni sporchi in famiglia mettiamola così allora ha messo ha messo scusi che ci sia da lavarli in merito però a quei kit a quei kit per fare vini si ma lasciamo stare ma lasciamo stare questa è la porcheria sono letteralmente delle stupidaggini in italia in italia non ci pensiamo minimamente a questi film abbiamo l'uva abbiamo l'uva tarocco made in italy e quindi ha perfettamente ragione che quando è vero made in italy ben venga quando qualcuno in modo truffaldino in modo disonesto utilizza il nome italiano con prodotti che nulla hanno dell'italiano va assolutamente combattuto e contrastato chiudiamo con queste mi pare riflessioni che credo al di là di come ognuno la pensi e coglieremo l'invito di cottarella perché coglieremo l'invito di riccardo cottarella certo io chiudo ringraziando allora riccardo cottarella ringraziando lui e la storia un piccolo grande paese